Salve amici fratelli della congrega, come dico io, il mio mood è questo, allora titolo informativo, sarà un video informativo. Allora, The Father, nulla è come sembra, in questa società delle apparenze, ma non voglio scadere nei luoghi comuni e nella retorica, si viene giudicati anche dalla scienza, non lo so, chiunque si crede un tuttologo, cioè, anzi, fa il tuttologo, e dunque pare malato, non di demenza, senile, di Alzheimer, bensì di onniscienza. Allora, con estrema coscienza, voglio mostrare le cosce, no, io sono un personaggio dell'Enrico Gezzi, vengo dall'inferno. Ecco. Olivia Williams, io la vidi dal vivo. Olivia Williams viene, venne più che altro paragonata a Greta Scacchi, quando prente, estremamente seducente. La vidi, la vidi? Non gliela vidi, insomma, questa è lei, da me, immortalata, fotografata, ma non, ecco, empata. Ecco, è una prova schiacciante. Io, presunto innocente alla Harrison Ford, no. Allora, con estrema candidezza, con delicatezza, voglio parlarvi di un film malato, non di demenza, bensì di squisitezza. Disquisiamo in maniera, appunto, delicata, squisita, e deliziamoci con questo film straordinario. Ora, Totò, disse, la donna è immobile e io sono il suo mobiliere. Lei fa l'agente immobiliare? Lei è un artificiere? Ok. Saremo poi la parte seria. Tra il serio e il faceto, tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare o la mare. Chissà, Olivia, braccio di ferro, Grease, brillantina, Olivia, Newton, John, ecco. Ok. Dicevo, i miei giovanotti, Mi sono perso, un attimo, vado recuperato, istradato, da chi vorrebbe ammaestrarmi, credendo che io non possieda le doti, le competenze cinematografiche. Un incompetente in materia di studio e sottoscritto. Quindi studiasse, si documentasse, si informasse, ecco. Come mi vedete, sì, a mo' di Harry David, basta che funzioni di Woody Allen, io ho sposato la tesi del vivere. A culo, a mo' del magnifico fondoschiena di Olivia, no. Lato B, no. Secondo il mio punto di vista. Secondo voi, come sta avvenendo la mia vita? Sono avvenente? Sì, sto parlando con lei. Io ho sposato questa prospettiva, questa inquadratura, questo mio sguardo, questa mia poetica. Non ho sposato lei, perché lei è brutto. Io non la vedo. Lei pensa di sapere chi sia io. E suppone, lei è supponente. Lei congettura, va avanti di deduzioni, di ipotesi. Ipotizziamo, dunque, che lei non sia brutto. Se lei non è brutto, un bell'uomo, qual è il sottoscritto? E diciamo, io mi rispecchio lei. O in voi, che mi state osservando, giudicando. Ma io voglio qui giudicare, più che altro valutare in maniera obiettiva, con tanto di obiettivo che sposta sempre le inquadrature che vanno perenemente modificate, ecco, questo film, The Father. Spostiamoci nell'altra stanza. Allora, l'ignoranza. Oggi tutti si dichiarano tutologi. Vogliono sapere tutto. Tutto di tutti. E sono ignoranti. In materia di ignoranza, no. Io sono esperto. Questa è una battuta che può essere recepita soltanto da chi ha quella cume. E da chi, appunto, può riflettersi nel mio mood humoristico. E' uscita la mia recensione del Dracula, di Bram Stoker, di Francis Ford Coppola, protagonista Gary Oldman, che se la vedrà con Anthony Hopkins, anche se Boseman vincerà, in quanto sarà omaggiato dell'Academy Award postumo, ecco, dicevo, Gary Oldman di Mank, Mankiewicz, contro Abraham Van Helsing. Non era il Conte Vlad, l'imparatore. No. Si incontrarono nuovamente, non sul grande schermo, bensì dove si svolge la manifestazione degli Oscar, mascheratevi, perché ancora è una situazione pandemica, sebbene gli Oscar si tengono a Los Angeles, anche negli Stati Uniti. E' ancora allarmante, quindi. Ora, non allarmatevi. Non siate terrorizzati dalle mie pose istrioniche. da attore nato, assai criticato, da recensore sofisticato. Allora, The Father, vedete? Con quale destrezza, con quale magistrale, erudizione bestiale, mi imbestialisco come Olma, io allestisca e non redarguisca nessuno, perché io sono amante del buonismo, ma più che altro del concedere al prossimo la parola, che sia democratica e non fascista, come questa dittatura sanitaria che ci sta ottenebrando in maniera un po' criptica, perché non conosciamo la verità, non vediamo la luce, veniamo oscurati da queste informazioni, un po' falsificate, però. Ecco, non dobbiamo seppelirci vivi nella tomba, nella cripta. Dobbiamo decriptare questo film. Allora, oggi recensiamo la prima prova registica del talentuoso Florian Zeller, ovvero lo stupendo e giustamente acclamato The Father. Come detto, trattasi dell'esordio di Zeller dietro la macchina da presa, MDP, un esordio clamorosamente riuscito. Infatti, ci sarà il film Mother, ma di chi era? No, Brother, The Son, sì, sì. È stato candidato a sei premi Oscar, fra cui la nominescio come miglior film dell'anno. Se non vado errato, come si suol dire. Allora, solamente però, così come sovventemente accade, soprattutto negli ultimi tempi, cioè da quando la selezione delle possibili pellicole è candidate agli Academy Awards, plurale, no? È salita a discrezione dei membri della sua giuria da 5 a 10, che sanno quanti sono, 7, 8, 9, e altre, sì, ovvio, è ben spiegabile che se per l'appunto possono essere candidati al massimo 5 registi e se di conseguenza i film in gara concorre al premio di Best Pictures, perché sono molti film, quindi ci sta al plurale, no, Best Pictures, singolare, sono spesso superiori a 5, qualche regista inevitabilmente è costretto il gioco forza a essere trascurato. Allora, è un candidato Cluizzo, Zau, David Fincher, Per Mank, ma non Zeller. Allora, dunque, sebbene tale scelta ci paia, poco plausibile, e immeritata, Zeller non è stato nominato nella categoria di Best Director, anche perché essendo un esordio raramente si vince l'Oscar, pensiamo appunto a Quarto Potere, però fu candidato a Orso Wells e poi mi pare che non sia stato più nominato uno dei più grandi registi della storia, ma uno sbaglio esagerato. Ce ne dispiacciamo, poiché, così come sopra accennato, e nelle seguenti rughe, no, righe, da noi per veramente ribadito, The Farer è un grande film diretto magistralmente. Scusate, bella gente, si è bloccata la connessione. Un attimo, un attimo, un attimo di suspense. Allora, 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 sono prolisso, mi va di essere, mi dilungo. voglio adesso anche il braccio allungare, alzare. Applaudiamo questo film. Alzatevi in piedi, forza, omaggiate il grande Anthony. Allora, andiamo avanti, vedete Anthony, mi ha inserito qui, al centro di tutto, sì sì, io sono al centro dell'universo, è ovvio. Tratto l'omonima piece, piece of shit, pezzo di merda, che sei tu, che mi critica, no, più, insomma, teatrale, di Zoller stesso, è un termine francese, infatti qui la France, ecco, adattata al cinematografo, da quest'ultimo, simile a Christopher Hampton, no, e già ci ritrova, peraltro, il film, dal titolo, assai simile con Hopkins, ovvero, The Good Father, Amore al Rabbi, di Mike Newell, poi avrebbe diretto, anche Donnie Brasco, no, Quattro matrimoni, un funerale, no, con gli inglesini, no, allora, Hugh Grant, no, allora, oltre ad essere stato, il writer, del magnifico espiazione, tournament di Joe Wright, dato da Ian McEwan, è uno scrittore inglese, scolzese, appartenente alla Gran Bretagna, alla Germania, in Germania, la Merkel cosa fa, con la cancelliera lì, allora, la donna immobile, sono il suo mobiliere, qui c'è anche The Woman, cioè, il nome non ci viene rivelato, Olivia Williams, sì, io sarei mobilissimo con quella lì, rigidissima, fermo nelle mie posizioni, allora, è regista di Carrington, con Jonathan Price, impazzirò, come Jonathan Price, in Brazil, oppure, io sono un samurai senza padrone, in Brazil, c'è Jonathan Price, c'è De Niro, il protagonista di Ronin, di John Frankenheimer, è De Niro, e uno dei cattivi è Jonathan Price, vedete come le verità, vengano ribaltate, nulla è come sempre, allora, The Father è sostanzialmente, un finissimo camelspill, cinema da camera, cinema teatrale, cinema, ambientato nelle stanze, di stanze, diciamo, di stilemi, delicato, della relativamente breve, pur assai intensa durata, di un'ora e 37 minuti, abbastanza comunque, un'ora e 37 minuti, lei fa un figurone, con questo, dicevo, allora, trama, un signore di nome Anthony, chi può essere? Niente, proprio di meno che, altri non è che, chi, chi è? Anthony Hopkins, il là con l'età, a G, diciamo, diciamo, pure anziano, ecco, non è, quei modi di dire, ehi vecchio, come stai, ehi zio, ehi nonnetto, ok boomer, sapete, che io la penso in maniera, atemporale, adesso, in maniera estemporanea, dico questo, probabilmente, domani cambierò, nuovamente il punto di vista, perché sai, io sono un po' squinternato, scapestrato, vabbè, vado per l'appunto indirizzato, educato, acculturato, dico, eh, si capisce, a prescindere, allora, soffre, non si va dalle persone anziane, a dire, tu sei un vecchio, vecchietto, ci si deve porre, con signorilità, a modo del grande sir, Anthony Hopkins, no? Signori, si nasce, io modestamente lo nacque, no? Allora, soffre da tempo di demenza senile, cioè, la malattia di cui soffre, il 90% delle persone, che pensano di essere di genius, ma qui di genius ce n'è solo uno, che sono io, eh, e anche pop, dico, allora, è per questo che dagli altri, che sono dementi, vengo preso io per demente, perché gli altri non ci arrivano proprio, ma non arrivano neanche con quella lì, eh, e ho la prova schiacciante, però, allora, forse a sua insaputa, allora, malgrado l'acquirsi, diciamo, dei sintomi, il livello di criticità, adesso qual è, allora, lei prenda la pillola, diciamo, per la depressione, si rivolga a Cassano, non il giocatore di calcio, ecco, quello è un pallonaro, il professore, lo scienziato, è libero, ci dobbiamo scuola, allora, eh, dei sintomi, prenda la pasticca, l'ha bisogna, l'ha bisogna, e quando ne ha bisogna, quando ne ha bisogno, no? Sempre più preoccupati della patologia, di cui affetto e afflitto, l'afflizione, il burbaro Anthony, vedete, prima sono stato un po' celentanoide, il burbaro, il bisbetico domato, no? Allora, Anthony non vuole essere aiutato da nessuno, da chi che sia, tantomeno dalla chiesa, ecco, tantomeno dalla figlia Anna, Olivia Colman, Olivia Colman, la favorita, la favorita, per vincere il premio come Best Actress in Supporting World, fra l'altro, ecco, che lui spesso confonde con un'immaginazione, un'immaginaria, puttini puttini, no, punto interrogativo, vi sto interrogando, eh? Voi che sapete tutto? Donna, Olivia Williams, che donna, è un po' invecchiata però, senza nome, vagamente simile, ma non senile, nell'aspetto fisionomico a Dan, comunque, sembra più senile, insomma, più vecchia dell'età che ha questa, non questa Williams, anche lei è un po', è sulla buona strada per diventare come Greta Scacchi, adesso già le rughe, ecco, no, no, Olivia Colman, sì, qualche anno più grande, ma adesso è 74, però dimostra 20 di più, e Anthony, essendo invece sempre giovane dentro, nell'aspetto però esteriore, dimostra tutta la sua età, allora, è un uomo di valore, Anthony, essendo un uomo orgoglioso, allora, avverte come umiliante, degradante, chiede l'assistenza psicologica e supporto umano, a chi che sia, tantomeno alla chiesa, e torniamo forse, lo mettiamo nell'ospizio, in una casa di cura, torniamo a Gran Torino, ma quello è più sveglio di voi, quello vede tutto, quel Clint, Walt Kowalski, perché è un uomo che ama anche Walt Disney, è infantile, poi è duro, soprattutto con la Williams, allora dicevo, la risatina da Anthony Hopkins, no, da Gary Oldman, di Dracula, allora, senza nome, innominata, cioè, è la sorella dell'innominato, quello del Mazzoni, bel pezzo di manzo questo qui, è un romanzo questa mia recensore, allora andiamo avanti, guardiamo sempre oltre, guardiamo anche il di dietro, questa qui che non è male, allora, Anthony, essendo un uomo orgoglioso, veramente l'abbiamo detto, e crede unicamente alla versione del suo cervello, eh sì, voi credete sempre alla versione del vostro cervello, ma la vostra lei non crede alla versione di qualcos'altro, che fa rima però, ma fa rima con un altro però, non col vostro, cioè probabilmente la versione degli eventi quotidiani, che gli accadono, gli accadimenti, diciamo, ma che ti è successo? Non hai avuto successo? E quindi non è neanche il sesso, e gli incontri che avvengono, e quindi tu non vieni proprio nel suo appartamento, non coincidono, non combaciano, diciamo, non si compenetrano con la realtà oggettiva, oggettivamente questa qui è una bella, ecco, la figlia però, lentamente, vincendo le forti resistenze, le indubbie, difficilmente, ti, che fa, difficili, questa è una parola composta da difficili e menti, le vostre menti sono difficili, sono semplicissime, allora, ho sbagliato, è un refuso, è uno stafalciore, difficilmente, scalfibili ostilità del padre, voi non siate miei ostili, è chiaro? Anche se la visione di questo film, potrà rivelarsi ai vostri occhi, che siete prevenuti, ma non siete venuti a niente, voi siete maturi, è oppostica, allora, con dolce premura, e ammirabile sensibilità, questa Anthony non vuole nessuna fregatura, vorrebbe forse un po' di confettura, un po' d'amore, no? Insomma, con enorme tatto e delicatezza, ribadiamo, malgrado i primi scontri, col carattere indomabilmente testardo di Anthony, qui c'è qualche ripetizione, non lo so, poi correggerò, riesce ad avvicinarsi a lui sempre di più, sostenendolo nella sua dura battaglia, contro la sua degenerativa malattia, viene ben specificata la sua malattia, la demenza senile, o il morbo di Alzheimer, o quello di Parkinson, di cui soffrì, e soffre, in questo periodo di forte sofferenza per noi tutti, resiliente, Ghezzi, allora, e l'incipit di The Farmer è notevole, perché con colpi di scena ben congegnati, depista le aspettative dello spettatore stesso, stupendolo, uno si aspetta che invece, da me viene sempre spiazzato, stupendolo, controvate impreviste, mirabolanti, che destano non solo agli occhi, che destano agli occhi, che non, questi qua sono proprio addormentati, gli occhi di questi qua, questi dovrebbero svegliarsi proprio, non solo agli occhi del personaggio interpretato, interpretato da un superbo Hopkins, forte inquietudine, spiazzante, vedete? Io infatti quando giocavo a calcio, spiazzavo sempre il portiere, soprattutto spiazzavo me stesso, perché il portiere, pensavo non avrebbe parato il mio tiro, il calcio di rigore, invece parava sempre, e sapete perché? Perché io sono, no, lui il portiere, era un paraculo, e quindi, questa è una stronzata, non ha niente a che vedere con la recensione, non fa ridere, vabbè, non tutte le, le, le batone vengono bene, perché se non trovano un amante, che le, no, le battute possono, ecco, allora Zellar crea infatti una giusta atmosfera, ricolma di affascinante suspense, per cui ne farla, almeno durante i primi tre quarti d'ora, 45 minuti, che è la durata del primo tempo, del film, è una parte di calcio, allora potrebbe essere scambiato addirittura per un thriller, d'alta scuola polaschiana, allora a un certo punto, ma è lui che non capisce, o gli altri, gli fanno i tranelli, i giochetti psicologici, allora cosa succederà? Niente di che, comunque succede, succede che il film va avanti, non a caso nel film brevissimamente compara a modi semispettro, una presenza fantasmatica, però carismatica, la torbida, eccitante, coprotagonista dell'Uomo nell'Ombra, Olivia Williams, io sono, non l'ho scritto io questo pezzo, io non sono pazzo, io sono un genius, l'avevo detto, io non sono Ewan McGregor, no, cioè, sono io, cioè non sono Peace Brosnan, che poi citeremo, ecco, a proposito di Peace Brosnan, un attimo, siamo arrivati a 18 minuti, dicevo, The Ghost Writer, si sembra un thriller, ecco, diciamo, per appunto, la Williams dunque, dopo aver mescolato le carte, memore forse di Memento, perdonate il consapevole gioco di parole, la donna è mobile, io sono il suo mobiliere, ma sono anche un paroliere, allora, Zell svela presto le sue intenzioni, smaschera, ogni pagliaccio, cioè voi, e The Father, è per questo che io sono Joker, perché il Joker è, lui si trucca, ma anche prima, senza trucche, senza inganno, era quello che era, un tipo flamboyante, non sempre serio, che si prende sul serio, sta a scherzare, e poi si arrabbia, è un po' come, io sono un po' come questo personaggio, prima è amabile, e poi è odiabile, ci sono gli haters, ci sono i lovers, no, io ho una lover, una, questo non è un pullover, ma andiamo avanti, allora, Zell e The Father assumono i precisi, connotati di un profondo dramma intimistico, tipicamente, stilisticamente, di matrice, francese, di matrice, father, madre, matrice, di fatti Zell e pur avvalendosi di attori principalmente inglesi, fra cui il bentornato Rufus Sewell, Dark City, padrona del suo destino, Catherine McCormick, Jus Primae Noctis, Braveheart, inglese, quella lì, e lì, c'è una scena, padrona del suo destino con Rufus, e lì è poco amletico, era presente questo Rufus, e noi stiamo vivendo nella Dark City, è tutto un complotto, no, dicevo, in Hamlet di Kenneth Branagh, non sapete niente, voi non sapete niente, dovete istruirvi, allora, dicevo, Pierce Brosnan, e lì, mi sono un bugiardo, il sarto di Panama, sono Geoffrey Rush, Pierce Brosnan, però lì, con la McGor, Cormack, vabbè, poi non si è più vista, però Pierce, credo che anche se la scena non fu reale, però gliela vide bene, e non poche volte, si è, e cita sia Londra, in cui è ambientata la vicenda, allora siamo nel Dracula, qui di Coppola, ma siamo a Londra, siamo a New York, a Los Angeles, appurate bene, che è la capitale della Francia, vedendo il film, capirete perché, io dovrei rivederlo, per accertarmi della precisa location, allora, perché guardare The Father? Lo so, siete emozionati, vi siete commossi? Come Olivia, quando voglio sono molto bravo, sa? Allora, a differenza di quanto entusiasticamente affermato da alcuni critici film troppo entusiasti riguardo il valore di The Father, il film a noi è piaciuto molto, ma specifichiamo che non è un capolavoro, bensì un'opera molto elegante dagli evidenti pregi importanti, diciamo altresì che, in un anno della favorita, no, sfavorito dal Covid-19, dal coronavirus, abbiamo visto pochi film, pochi film sono usciti in sala, un film così, in altri anni, in altri ambiti, non sarebbe mai stato candidato, se la vedrà con Nomadland, e poi, a partire dalla splendida recitazione di Hopkins e della Coleman, comunque, è un po' a volte di maniera, manieristica la recitazione di Hopkins, io preferisco l'opsi, più, più, più mellifo, più, beh, fare il pazzo, fare il demente, non è così facile, voi lo siete dalla nascita, non c'è nessun processo, dato studio, di medesimazione, diciamo, nessun metodo, Stanislaski, allora, della Coleman, il primo candidato come migliore autore protagonista, la seconda come non protagonista, allora, passando per la sua dente musica di Ludovico Enaudi, che fra l'altro è autore, della colonna sonora, non candidata, però, cioè, ma lì, l'aveva già composta quella canzone, per Nomadland, e la cattivante fotografia naturalistica, di Ben Smiter, Bologna dicono, quando uno è un po' scemo, viene preso per un po', per demente, ehi, ma tu sei proprio smitto, allora, fino ad arrivare al serrato montaggio di Orgos, l'antimo, quello del regista allora, cioè, no, Orgos, detto anche Jorges Amprunus, vabbè, la pronuncia qui, a farsi fottere, perché non guardare The Father, voi dovreste andare a, dopo il suo teso, inizio pieno di sorprese narrative, diciamo, dopo tutti i preliminari, il film si adagia, chi va piano, ma sano e va lontano, e gode di più, su un ritmo molto lento, un suplesso, e privo di scossoni nell'intreccio, così che superficialmente potrebbe sembrare noiosso, qui, non c'è la Spagna, Francia o Spagna, basta che si bagna, e voi state sempre maniare a tu spaghi, in Italia, quando realizzeremo questi film, che sono un po' più eleganti, più raffinati, io sono un buon gustaio, potrebbe, dunque potrebbe conseguentemente annoiare molti, voi avete sempre bisogno di cazzeggiare, poi dite a me, io sono un pensatore libero, ma tu cazzeggi, voi state a lavorare, a farvi a Poodle Coo, ma non della Williams, ecco, The Father è un film estremamente sofisticato, come ho detto, è introspettivo, la cui visione però non è di certo adatta a tutti, allora, questa è la prospettiva, lo sguardo di questo regista, vedete che sguardo magnetico, ipnotico, ipnotizzante, di Hopkins, uno psichico, nel drappola, forse anche nel caso Thomas Crawford, qual è la verità, ma lui è malato, è malato davvero, c'è il finale, che non vi rivelerò, un finale emozionante, un film comunque sia lento, ma appassionante, curiosità, il personaggio di Anthony, io lo capì subito, andai a controllare il suo MDB, ma io so tutto, so vita, morte, miracoli di tutti, io, però non sono un tutologo, io so tutto, e non me la tiro, a differenza di voi, io so questo, io so questo, io non so nulla, cioè so tutto rispetto a voi, voi non siete niente, nessuno e niente, la felicità non esiste, infatti, forse prima, se la godete Anthony, e poi, si ammalò, e vabbè, il personaggio di Anthony, incarnato ovviamente, come detto, dallo stesso Anthony Hopkins, nel film afferma di essere nato, il 31 dicembre 1937, ovvero lo stesso giorno di nascita, di Hopkins stesso, e probabilmente, ha personalmente, aggiunto questo particolare, modificato la sceneggia, allora, Hopkins ha avuto, Gary Holman, non ha vinto per la Talpa, ha vinto per Darkest Hour, allora più buia, non vincerà per Mank, entrambi meriterebbero, ma non c'è due senza tre, vincerà Boseman, abbiamo detto, gli altri, sì, candidati, ma non hanno nessuna possibilità di farcela, nessuna chance, diciamo così, di vittoria, no? E allora, Anthony Hopkins, vinse, è l'unico Oscar, malgrado possa apparire abbastanza inquietante, ecco, la situazione, no, cioè, altri hanno vinto due Oscar, tre, forse, ma li meritava, Silenzio degli Innocenti, poi fu candidato per quel che resta del giorno, che è di James Ivory, per Cass Howard, no, se non sbaglio, forse, no, forse no, vedete, James Ivory, Richard Attenborough, col quale girò Magic, Magic, che inizialmente doveva essere diretto da Polanski, nel 78, doveva esserci De Niro, ma De Niro rifiutò poi la parte offerta anche a lui, prima che assoldassero, il Samurai senza padrone, questo role, no, questo Anthony Hopkins, Silence of the Lambs, ruolo storico di Hannibal Letta, perse contro Anthony Hopkins, De Niro, in quell'annata in cui vinse, appunto Hopkins, battendo De Niro di Cape Fear, eccetera, eccetera, ah, le maree, io sono il principe della risata, di Gotham City, delle maree alla Nick Nolte, poi, Amistad, miglioratore non protagonista, poi perse, a proposito, Cage, doveva essere nell'Uomo nell'Ombra, poi, Superintro, a McGregor, meglio così, meglio così, poi doveva essere anche nel Dracula, di Coppola, Cage, essendo nipote, ma non voleva poi essere accusato, di essere la favorita, di favoritismi, di nepotismi, quindi dopo aver girato, eh, Rasti Selvaggio, Cotton Club, Peggy Susse, è sposata, ma non ha più sposato la causa coppoliana, draculiana, diciamo, però sostiene di essere un vampiro, vabbè, stress da vampiro, vabbè, questo Cage qui, vinse per via da Las Vegas, configgendo Anthony Hopkins, candidato anche quell'anno, con il miglioratore protagonista per gli intrighi del potere Nixon, di Oliver Stone, poi Cage avrebbe girato con Oliver Stone, World Trade Center, anche una piccola parte in Snowden, quindi non parlate come di cinema, non parlate anche di qualcos'altro, piccini, allora, eh, poi, uno scorso, vinto Brad Pitt, per, c'era una volta a Hollywood, doveva meritarlo, Brad Pitt, per altri film, forse doveva essere candidato, fu neanche candidato, miglioratore, per l'assassino di Jesse James, per Mario del Codardo, Robert Ford, vinse la Coppa Volpi a Venezia, vabbè, è un bel polpone comunque, questa Anthony, The Two Pops, quest'anno ritorna, in gara, Tarantino, Luis Gara, De Niro, vedete, allora dicevo, quindi, 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 vedete, sono smemorato, sono smemorato di collegio, devo tornare in collegio, eh, sono un po', eh, non mi ricordo le cose, non, in effetti, in effetti, molta gente, disse a me che io fui malato, mentale, depresso, schizofrenico, che non vedevo la realtà per quella che era, e non, che è, e non so affrontarla, voi non sapete affrontare me, perché sapete solo insultarmi, in maniera inusitata, visto che con me, non si può rivaleggiare, io non voglio vincere l'Oscar, voglio vincere il Nobel, scusi, ora spostiamoci, nell'altra stanza, presto uscirà la recensione, non possiamo accavallare, inflazionarci, uscite il racconto di Cina, di Dracula, presente anche su Moulinan Lynch, comunque, mi inserirò, link in descrizione, proprio del Moulinan Lynch, vabbè, stiamo vivendo così, soffocati, soggiogati, o tenebrati, dissanguati, esangui, esaminati, ammalati, tamponati, tamponati nella vita, sto continuando, il seguito di Bologna insanguinata, si intitolerà Bologna Hard Boiled, l'amore ai tempi del colera, di García Márquez, no, centrale di solitudine, povero Dracula, povero me, povero Dish García, no, dicevo, l'amore ai tempi del Covid, molta gente confonde il Covid con la lebra, e da me del lebroso, ma io non ho il Covid, e non ho neanche la lebra, ho delle penne labbra, scusi, l'ebola, questa società che sta andando in ebollizione, allora, cosa succederà? Veramente, veramente, è la gente che va a Parigi, ha fatto bene, Boracini, non quella Boracini, Boracini a arrabbiarsi, e Salvini, viviamo in una diattura fascista, però, Salvini ha ragione, si salvi chi può, allora, le persone che possono permetterselo, vanno tre giorni a Parigi, a Londra, all'estero, invece, noi dobbiamo anche compilare, il modulo di autosicrificazione, per andare nel comune limitrofo, a trovare l'amico, e andare a trovare Ilaria, l'amico, no, Olivia, oppure la mia lei, non posso incontrarla, ma chissà, forse succederà, nulla è come sembra, quindi, al momento, non abbiamo ancora, l'ufficialità delle notizie, chi era delle news, che sono un po' distorsive, voi distorciate la realtà, e anche me, eh, io sono un tipo così, clownesco, burlesco, in questo periodo, poche volte di casa esco, ma anche il passato, il passato è passato, dunque, sono un uomo a colori, sono totogliano, totò, vi do tante botte sul papà, totò, miss, mia gara miss, la lì la lì, la 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 la, la la, e che la Madonna va accompagna, e la Madonna può accompagnare tutta questa gente, che Dio vi benedicca, e vi giovede mi, il padre, nel nome del padre, dei ne deluso, vinto tra Oscar, però non per quel film, del figlio del Spirito Santo, no per quel film, Grazie.